Te vai a pensare, ma tanto tanto pensare, dai dai Arezzo, mi golfo! Da sola, sul palco, con la sua voce e il suo pianoforte, Frida Bollani-Magoni ha così incantato con cover e pezzi originali la fortezza medicea di Arezzo. Per la rassegna riprendiamoci la scena organizzata da Chelsvot, giovanissima, prodigiosa pianista, polistrumentista, cantante, figlia d'arte, da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica. Sicuramente cerco di portare un po' di me, di raccontare un po' di me, ecco, sul palco. Per Frida Bollani-Magoni un ritorno in città dopo essere stata protagonista di Musica Nuda nel 2020. Subito dopo la fine del primo lockdown, quando Musica Nuda fecero il loro primo concerto, la loro ripartenza dopo il Covid, chiesero a me di aprire il concerto. Questa è stata la prima volta in cui mi sono presentata, diciamo, come Frida Bollani-Magoni, Piano e Voce, eseguendo il repertorio che poi eseguo tuttora ai miei concerti, o meglio un assaggio di quel repertorio, che poi il mese dopo ho portato nel mio primissimo concerto. E tre anni dopo, riaccomi qua. E tre anni dopo, riaccomi qua.